questi si muori tutti dopo aver gestito mamma mia se ci vedesse Carlo Conti che direbbe questi non li conosco, non c'erano in studio non c'erano vassè ehi rimettemi un po' qua mi fate una foto che la mandiamo a Giorgia per favore dai dai fa una foto ehi 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 che me frega dopo che guarda lei ha fatto domani single no no tu chiamami a Parisi ha fatto una festa mi chiediti quindi io posso fare qualunque cosa non ti posso dare tolto fai glielo vedere come va sul cavallo dai fatevi una foto lascia perdere Vasselli 5 minuti e fare una foto a lui dai dai vola si perde all'equilibrio e volo per davvero vola Vasselli vola ma questo è fuori a cavallo eccolo non ti sei mosso più dettaglio ma non ti sei mosso eh così dai cavallo non ti sei paura non ti sei paura torna a casa così vai vai stai a fare la foto o stai a fare il video? il video ok forse se Conti ci vedessi in questo momento e questo era tutto il mio stato e questo altro questo si è buca proprio e questo è il sindaco c'era il cavalluccio marino da cui il famoso tetto questo è il cavalluccio marino vai Caterina poi fai dipendi Caterina fai gli vedi gli buchi no 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 fai Caterina vai Caterina poi fai no fai no fai no fai no fai no fai no fai Caterina dai se ci riesco io che tu vuoi da cavallo d'ufficio te li conferma di genere ecco Livi che si allontana bravo bravo mi sono riusciti a fare un culo oh di Caterina di Caterina è calda lei ha una mano casco c'hanno le mutande viola perchè? che fa corpo succare racconti eccolo è il meglio è il meglio te la Rai dice qualcosa che devo dire? sto concentrato fai un bel bollino 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 fai un bel bollino